oggi ci troviamo a san giovanni rotondo per raccontarvi la storia che è capitata alla famiglia dell'avvocato antonio pio cappucci che a gennaio del 2019 ha perso sua moglie filomena viscio a causa di un parto gemellare finito male ecco avvocato che cosa è successo ce lo dica sì buongiorno un fatto noto qui nella nostra città che all'epoca fece molto scalpore a seguito di una normale emorragia di mia moglie nella notte 3 15 e 16 gennaio portammo la stessa in casa sollievo al pronto soccorso e quindi poi il parto nella mattinata del 16 gennaio un parto cesareo gemellare e in giro di un'ora e mezza a seguito del parto alle 13 e 40 la stessa si è trovata rianimazione quindi alle 15 e 30 e purtroppo la situazione era molto molto grave e dopo 13 giorni è deceduta nel presso il reparto di rianimazione ecco e lei il 30 giugno ha querelato alcuni medici dipendenti presso i carabinieri della compagnia di san giovanni rotondo che cosa è successo dopo sì la mattina stessa del 30 gennaio quando è deceduta appunto filomena io mi recai presso la compagnia di carabinieri dove ho sporto querela denuncia per il fatto accaduto e a seguito delle indagini che sono state condotte e di un'archiviazione dicembre 2019 grazie al lavoro e alla professionalità dei miei colleghi che mi difendono mi tutelano che sono l'avvocato giuseppe principe e l'avvocato pasquale lanzetta siamo riusciti a ottenere il rinvio a giudizio quindi la riapertura l'indagine rinvio a giudizio abbiamo consultato anche dei nostri periti a livello nazionale esperti in ginecologia e siamo riusciti a ottenere il rinvio a giudizio e quindi l'apertura di un processo penale per omicidio colposo nei riguardi di coloro che hanno operato all'interno di casa lievo e sono occupati delle condizioni di mia moglie e questo è uno dei primi casi a livello nazionale vero sì uno dei primi casi a livello nazionale soprattutto davvero uno dei primi casi in tema di responsabilità medica di un rinvio a giudizio per omicidio colposo e soprattutto non me ne voglia direttore in un'epoca storica in cui davvero il tasso di mortalità per gravidanza e i minimi storici a livello mondiale nell'ospedale di san giovanni rotondo caso lievo che l'ospedale fondato al nostro santo si è avuto un caso di decesso per per appunto un parto un parto gemellare per una placenta a creta che rispetto alla quale i protocolli anche in tutta italia sono adottati dai nosocomi dagli istituti ospedalieri in tutto questo che dice casa sollievo della sofferenza e casa sollievo partecipa al processo penale costituita e per la verità ha mantenuto un rigoroso silenzio in questi anni questo devo riconoscerlo fatta eccezione del del vescovo moscone che il presidente onorario di casa lievo il quale anche all'atto del suo insediamento presso la nostra diocesi nel febbraio 2019 ha ricordato la figura di questa donna che è deciduta ha lasciato quattro figli e il sottoscritto e non non ha mai preso contatto con il con la mia persona per sapere anche come stessero i quattro bimbi e ancora oggi continua a diciamo a rimanere indifferente rispetto all'esito del processo e a di questa vicenda e questo diciamo dispiace molto per quello che il nome l'immagine che il nostro santo ha dato e continua a dare a queste importanti istituzioni ospedaliera quindi l'unico che si è interessato di questo caso è stato padre franco moscone all'ascivesco sì sì è l'unico che si è interessato un annetto fa un annetto e mezzo fa mi ha ricevuto nel suo ufficio in casa lievo allo stesso ho raccontato come i bimbi oggi crescono grazie anche ai miei genitori e grazie all'opera appunto della mia famiglia lui ha voluto sapere appunto le condizioni ed è stato ancora l'unico e mai la dirigenza anche quella che ha preceduto all'attuale dirigenza di gumirato il dottor gumirato si è davvero mi ha mi ha contattato per questo per questo caso come stanno i bimbi avvocato beh fortunatamente i bimbi stanno bene stanno bene stanno crescendo la prima 12 anni secondo quasi 9 e i gemelli per l'appunto faranno cinque anni che coincide nel gennaio del 2024 crescono e spesso soprattutto i primi due che sono cresciuti con la mamma mi chiedono appunto a che punto sono le indagini perché i medici che hanno si sono occupati di mia mamma della mamma di mia moglie non non pagano o comunque loro utilizzano in gergo questa espressione perché non vanno in carcere io direttore ritengo che il processo penale per tutto il processo penale sia un fatto dovuto cioè bisogna fare bisogna dire la verità bisogna fare la giustizia io voglio dire a questi miei bimbi che cosa è accaduto voglio che si dia una risposta servirà marginalmente però ripeto siamo in uno stato diritto e io ritengo che appunto quello che sta accadendo presso il tribunale di foggia rappresenti un esempio di giustizia e quindi rispetto alla quale io almeno diciamo sono sono soddisfatto e voglio esternare la mia soddisfazione intanto da casa sollievo della sofferenza fanno sapere che la paziente era portatrice di una complessa anomalia di sviluppo anatomico della placenta il parto gemellare tuttavia si è svolto regolarmente senza alcuna difficoltà nella fase successiva è comparsa una temibile complicanza e si è immediatamente resa operativa una equip congiunta multidisciplinare con chirurghi ostetrici chirurghi vascolari radiologi interventisti e anestesisti rianimatori nonostante gli intensi sforzi la donna è purtroppo deceduta dopo due settimane in rianimazione per una crisi cardiorespiratoria acuta irreversibile nel rinnovare a tutta la famiglia dicono da casa sollievo la nostra sentita partecipazione al loro dolore non possiamo che restare in fiduciosa attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria